L'Italia sorride e si riprende la vita, almeno in parte. Da lunedì quasi tutte le regioni saranno in giallo. È un segnale bello, importante e significativo. La prima reazione è di gioia, perché tante attività possono ripartire. Sappiamo che il virus si sta diffondendo un po' meno, che le terapie intensive sono meno piene, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che ci sono ancora 300 e più morti al giorno, 300 vittime. Quindi tutta la nostra vicinanza, solidarietà e il nostro affetto per le famiglie delle vittime, che non dobbiamo dimenticare mai in nessun momento. Le regioni hanno fatto un lungo elenco di richieste al governo, alcune sono comprensibili, certo, tutti noi vogliamo che le attività ripartano, è essenziale. Alcune forse sono un po' eccessive, c'è stata qualche forzatura, perché poi le stesse regioni che hanno avanzato queste richieste hanno un po' lasciato per strada, per esempio, le scuole, dove si ritiene che la quota del 70% sia eccessiva e basterebbe tornare in classe ai licei al 60%, quindi non si capisce perché questo contagio, a quanto pare, si diffonda soltanto fra i banchi e non altrove. Su questo forse non ci siamo. E allora ripartiamo in bocca al lupo all'Italia e a tutti noi, perché il momento è fondamentale, ma non corriamo rischi, senza eccessi, altrimenti si tratterebbe di tornare indietro e questo non avrebbe nessun senso.